Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video Ragazzi tra un pochettino sul canale uscirà un video finalmente dopo tanto tempo di Minecraft ragazzi E continueremo la nostra serie e ho fatto qualche modifica ragazzi E saremo in compagnia di uno speciale Se questo video arriva a 5 like ragazzi vi caricherò subito il video Allora ragazzi ho scaricato questo gioco In pratica ho fatto dei livelli Cioè ho fatto 3 livelli E devo fare ora il livello 4 E ho comprato delle armi Però sono scomparse non compagliono più Forse si devono ricaricare ogni volta che si scaricano Quando so Perché allora io vorrei comprare sia questo che questo Però questo costa 65.000 Questo è 18.000 Questo lo potevo prendere per sbagliare su questo Però vabbè Intanto io caricherei 3 armi 1 2 Così almeno Ci ho messo il posto 1 2 Ok Prima inizio con la pistola Ragazzi prima io non sapevo sparare E si deve in pratica mirare per sparare E' molto Difficile per uccidere la persona Ok 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 E' molto difficile sparare Ok Però sembra che me ne aveva più di Più di 2 armi Anche 4 armi E' così almeno se si scaricata la pistola Ah no Mano male Perché adesso La pistola sono 84 Perfetto C'è 240 euro E' poco ricaricare quella Perfetto E' molto bene E' colpi sprecati Perfetto E' che cavolo ma che cacchio ora basta no l'ho visto l'angolo c'è sai che ti dico ok questo è il ragione oh 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 mi muore mi muore si sta a vissare ok no ho fatto lì ho fatto la pistola guarda c'è solo questo eh ehi aspetta non c'è più la pegnetta faccio e vai a cosa adesso va a cosa in via allora entriamo aspetta facciamo uno è molto facilmente ok guarda guarda che che è il tempo che dovete fare in tutto per fare i livelli ogni livello alza guarda che ora ragazzi sto con i pugni per aver guardato i corpi non c'è non c'è non c'è ma non c'è 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 un orn03 andriano qui dentro son so ah allora allora e poi lo salvato così in questo caso lo ho liberato e mi sta girando mi dice attimo ma cosa sono zombie ma che cacchio ma cos'è se lo sapete scrivete le commenti ma sono tutti liberi questa sarebbe stata buona una miglietta raga ma muoiono ma muoiono ma muoiono oh no molta vita ragazzi io sto parlando sopra la voce però ragazzi voglio ringraziarvi e lasciare like ragazzi perchè in questo caso ragazzi ricorda di iscrivervi e lasciare un bel mi piace 10 10 10 10 10 10 10 10 10 eeeh stai giù nel mare come volete sentire ragazzi ci sono fulmini in questo momento che sta pevendo ma voi non fateci gatto e morite però ragazzi qui sotto in descrizione vi lascerò il link in descrizione del mio secondo canale che si chiama le reaction gli hanno portato ragazzi andatevi a descrivere che farò la tutte le reaction no scusate non le reaction gli hanno portato il mondo delle reaction mi dovete scusare non uccidere il mio amico ok questo vuol dire che quando vedete con la freccetta in alto vuol dire che ormai è la fine ok ragazzi eeeh è stata no no la pubblicità no ragazzi ragazzi scusate ripartite la pubblicità prima che mi davano il copyright come ci hanno fatto non volevo aver nessun ragazzi questo è il gioco spero che il video vi sia piaciuto lasciate like iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ragazzi a 5 like vi caricherò il video di minecraft ragazzi io vi ricordo ancora di iscrivervi di nuovo perchè come potete vedere ai 100 iscritti ragazzi regolora il pass a uno di voi siamo quasi 40 ne mancano 3 eeeh perciò come vedete in questo titolo nel mio vecchio video che mi è durato 36 secondi al casa del wifi eeeh ragazzi comunque il video c'è il titolo si vede perciò vi ricordo ancora di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e lasciate like a 5 like caricherò quel video di minecraft in compagnia di una persona vi ricordo che vi lascio il link in descrizione del mio secondo canale il mondo delle reaction e io si saluto vi saluto grazie